Noi non vediamo l'ora di poter fare un salto, avere la certezza del salto di qualità. Il poter con essere più ambiziosi. Stiamo parlando di un campionato nonno innanzitutto. Non si guarda la classifica come non la stiamo guardando adesso, è un'altra partita, poi puoi ritornare primo, poi ritorna secondo. Si risolverà tutte le ultime due giornate, all'ultimo. Ho pregato tutti di carcelare il più rapidamente possibile questo risultato e pensare alla prossima partita. L'unica cosa che possiamo fare è dimostrare sul campo se ci siamo ancora o non ci siamo. In un attimo ho visto nel mister al faccino. Allora, vai coach. Che cosa volete fare? Siamo un passo da Serie A, però dobbiamo farlo. Siamo un passo da Serie A, però dobbiamo farlo. Siamo un passo da Serie A, però dobbiamo farlo. Siamo un passo da Serie A, però dobbiamo farlo. Grazie.